Ciao, creatura! Io sono meccanissi splendenti, benvenuta, bentornata nel regno di Gullai, ASMR. Allora, è da un po' che non ci vediamo, sì, avevo scritto ultimo video proprio per annunciarvi che temporaneamente quello sarebbe stato l'ultimo video, infatti da adesso in poi non ci sarà più la scritta ultimo video in quel video, vabbè, avevi capito? E quindi le supposizioni di alcune persone erano sbagliate, era effettivamente l'ultimo video, l'ho scritto apposta nel titolo per mettere in chiaro, annunciarlo, tra virgolette, senza dover dare tante spiegazioni perché non ce n'era il tempo, è stata una decisione presa così all'improvviso e quindi era giusto così, insomma, e vabbè, allora, cosa verrà in questo video così lo sai subito e decidi subito se ti va di vederlo oppure no, al di là del titolo che comunque, più o meno, ti fa capire di cosa parlerò in questo video, parlerò di cosa è successo, perché mi sono presa la pausa, che cosa ho fatto durante questo tempo e poi parlerò di un ordine sparso, ecco, non per forza in questo ordine, già l'essere super, parlerò allora di quello poi, di come sarà ora in poi il mio canale e ti mostro anche un piccolo haul, perché c'è qualcuno che mi richiede spesso o comunque mi ha richiesto degli haul, ma non compro mai niente, per una volta che compro qualcosa, te lo mostrerò, sono tre cose, e quindi così rendo felice, anche questo, felice, vabbè, insomma, do una piccola soddisfazione alla persona che mi chiede spesso l'haul che non posso mai portare. Allora, iniziamo subito, cosa è successo? Perché ho preso la pausa? Che cacchio, che capo, che capo ho fatto in questo periodo? Allora avevo già accennato in una live, forse, o da qualche parte, così a grandi linee, che avevo iniziato un corso, qualcos'altro da fare, e non ho specificato cosa, non perché volevo fare la donna del mistero, lungi da me fare, tirarmela in questo modo, semplicemente non mi va di parlare, di rianunciare cose, che poi per un motivo o per un altro potrebbero anche non realizzarsi, e quindi preferisco prima fare e poi portare l'atto compiuto la cosa già fatta, e ve la racconto, preferisco così, perché mi sembra, non lo so, adesso preferisco così, preferisco fare e poi portare coi fatti, le cose, non dare aria alla bocca, dire, raccontare cose, e poi magari non vengono realizzate, e quindi è, una perdita di tempo, è un parlare a vanvera, e quindi voglio portare appunto con i fatti, con il fatto compiuto, e sì, ho fatto questo corso di 120 ore, è durato tanto perché lo facevamo ogni tre ore, ogni sera però, dal lunedì al venerdì, anzi il giovedì, e per tre ore, quindi sono andato avanti tipo tre mesi, e non ho problemi a dire, anche se dirò il corso, ma poi non dico i progetti futuri, anche se in realtà uno potrebbe anche intuire qualcosa, ma in realtà no, però vabbè, bello anche comunque creare un po' di curiosità, ecco, ecco la donna del mistero, a parte gli scherzi, e è un corso, riconosciuto dalla regione, ma anche non solo, e organizzato dalla Conf Commercio, ed è, in poche parole, sono diventato un'OSA, un'O-S-A, un'operatrice del settore alimentare, vi giuro che, mi è piaciuto tantissimo questo corso, ho imparato un sacco, un sacco di cose, che non avrei, che non sapevo, e che non avrei imparato sicuramente, anche perché bisogna fare due scuole, per imparare queste cose qua, e, e quindi, insomma, sono molto contenta, sono felice, in più, ho fatto un sacco amicizia, con gli studenti del corso, che erano di tutte le età, e, e si è creato un bel gruppo, e, sono già molto felice, non so neanche come, fartelo capire, questo, mi siamo molto felici, ecco, che già, è tanto per me, e, insomma, abbiamo fatto un sacco di materie, otto materie diverse, e alla fine c'è stato l'esame, allora, io ho portato video fino a metà corso, però dopo è diventato sempre più, cioè, gli argomenti si accumulavano, un dietro l'altro, c'era un sacco da studiare, e quindi, ho detto, visto che i social mi stavano, mi distraevano troppo, ho deciso proprio di, di punto in bianco, fermarmi, interrompere, e, ho smesso di, di usare sia Instagram, che YouTube, perché non uso altri social, vabbè, TikTok ogni tanto, caricavo dei video, ma, niente di che, siamo pochi due, e i principali, sono appunto, Instagram e YouTube, e ho smesso, di punto in bianco, però, l'ho detto, tra virgolette, su YouTube, con quel titolo, nessuno è venuto a dirmi, cosa è successo, ecco, tutti si sono, hanno accettato questa cosa, tranne, vabbè, due amici, ma, non, non fa testo, io parlavo di, dei follower, ma, di questa cosa, ne parlerò un altro video, perché lì, tutto un discorso a parte, quindi, eh, ho fatto l'esame, ho preso di più, che, alla maturità, che ho fatto, al, grafico pubblicitario, grafico pubblicitario, sono uscita con, 83 su 100, e, invece, in questo esame qua, sono uscita con, 96 su 100, tipo, quindi ho detto, sì, ne basta la pena fare quella posta, sui social, ne conferrai anche tu, che, ne basta la pena, perché, già voglio dire, 96 su 100, buon voto, eh, l'esame, allora, l'ho detto, vabbè, il corso era, online, però, con dei docenti, veri, in carne e ossa, tipo, in live, e, l'ho trovata, abbastanza, strano, come lezione, fatta online, molto fredda, perché, noi, tra studenti, non ci potevamo vedere, in webcam, vedevamo solo, il docente, ed era molto, sì, fredda, come situazione, però, lo stesso, siamo riusciti alle gare, perché, in 120 ore, nei passi di tempo, insieme, e, poi ci siamo aiutati, anche con lo studio, insomma, bello, una bella, veramente bella esperienza, che, consiglio, a, le persone, che, vogliono affrontare, un certo percorso, che ne hanno bisogno, insomma, e, e, quindi, io, che sono, molto, introversa, timida, mi sono lanciata, nel, a fare, dire cose, e fare cose, eh, proprio, mi sono spinta da me stessa, proprio, lottavo contro la mia, le mie sicurezze, e ho, buttato giù, delle barriere, che non avrei mai immaginato, quasi, quasi, voglia di fare altre corsi, perché, purtroppo, ho sempre pensato, di non essere abbastanza, di non farcela, quella, invece, erano tutte, paranoie mie, perché, perché voglio dire, i risultati si vedono, cioè, mi sono impegnata molto, però, l'esame, poi, è stato, sempre online, eh, tutto, orale, altra mia ansia, già a scuola, mi venivo l'ansietta, per l'orale, figurati così, e poi, online, però, me la sono capata, già, ho risposto tutte le domande, quindi, mi ho posto, eh, mi è andata bene, come al solito, non sempre io, fatalista, che penso, sempre che è andato tutto male, pessimista, in realtà, ho cambiato anche molto, modo di pensare, ho capito, dei certi discorsi, che mi faceva, il mio dottore, e, e, ho ingranato, la marcia giusta, diciamo, nel mio cervello, quindi, ma, non importa, magari, se sei interessato, a questo, creatura, me lo fai sapere, ne parliamo, meglio, in una live, o in un altro video, poi, come si svolgerà, d'ora in poi, il mio canale, dato che voglio, limitare, l'uso, dei social, uno, perché, ho un progetto, da realizzare, e quindi, vorrei fare, un po' di microphone, scratch, ma, mi so che, meglio, si parla e basta, ho dei progetti, appunto, da realizzare, e, e quindi, il tempo, lo tengo, da spendere, più, per quello, però, voglio, comunque, portare, dei contenuti, perché, ho delle idee, due format, nuovi, che, però, mi servono, siccome, voglio portarli, anche bene, giustamente, e, sono, molto più elaborati, di, mettersi qui, davanti, e parlare, basta, allora, ho pensato, che, ne faccio meno, per oggi, qualità più alte, più studiati, più pensati, e quindi, appunto, magari, porterò un video, settimana, però, cazzuto, si può dire, un bel, bel video, con sostanza, insomma, un video studiato, che, comunque, sarà, sempre, per il, il tuo intrattenimento, quindi, sarà rilassante, ma allo stesso tempo, provocherà, altre, emozioni, in te, non solo, la smr, i miei video, sono sempre stati, comunque, più divertenti, che rilassanti, diciamo, la verità, un format, che porterò, sarà, divertente, e rilassante, però, in chiave, molto divertente, anzi, sarà, un intrattenimento, divertente, in chiave smr, ecco, e io ho già detto troppo, l'altro, non ve lo spoiler, perché, se no, ricato, nel fatto, di presentarvi cose, poi, lo vedrete, al fatto compiuto, comunque, in questo periodo, oltre a studiare, ho avuto anche delle idee, perché, tipo, mi svegliavo, ho preso un giro strano, un orario strano, che vado a letto, subito dopo cena, anche se, in realtà, finivamo alle nove e mezza, quindi, mangiavo, dopo, e poi, andavo a letto, e poi, nel periodo vicino, all'esame, essendo io, una persona, molto ansiosa, mi svegliavo, tipo, alle due di notte, e poi, non riuscivo più, a riatturamentarmi, e quindi, adesso, continuo, a svegliarmi, alle due di notte, solo che, tipo, stanotte, mi sono svegliata, alle tre, quindi, penso che sto, ripigliando, un orario decente, in questo periodo, mi sono, durante la notte, queste notti, insonne, e ho passato, anche, un, due giorni, senza dormire, ma ero, più attiva, di, quando dormo, quindi, molto strano, penso, avessi, un po' di adrenalina, per le sane, e, perché ho portato giù, quanti, i miei limiti, io, mi sono, proprio, sfidata, e, è stato, anche per quello, perché, ho fatto cose, che, normalmente, non farei, e, ma mi sono, proprio sforzata, io, perché volevo farle, però, avevo il limite, della timidezza, di altre cose, e quindi, io mi sono, sforzata, insomma, è un po', un discorso, che, magari, va affrontato, in un video, a parte, comunque, eh, sì, ho fatto questo corso, poi, vi ho detto, che, i video, saranno meno, però, più, più, meglio, fatti molto meglio, oddio, dal mio punto di vista, più elaborati, ecco, piuttosto, che un video, che sono, comunque, belli anche i video, dove io, parlo, così, tranquillamente, però, ho queste idee, perché non portarle, avanti, ho tante idee, però, tante volte, non le porto avanti, perché penso, ma, forse, è un'idea del cavolo, invece, in questo periodo, ho portato avanti, delle mie idee, che pensavo fossero, del cavolo, invece, c'erano delle idee, le persone, non ci avevano pensato, invece, poi, sono state, utilissime, per dire no, e, quindi, devo avere, più fiducia, nelle mie idee, e bilanciarmi, e se anche, sbaglio, pazienza, però, intanto, ci ho provato, e, che dovrebbe essere, una cosa, un pensiero, normale, invece, per me, non è normale, non è così scontata, la cosa, del credito in se stessi, ma penso, che sia un problema, un po', di abbastanza creatura, qui sul regno di, cos'hai, poi, che altro dire, ah, un'altra idea, che ho avuto, ho visto, che su Instagram, si possono fare, i video, tipo, in quattro persone, il video, in live, e, ho organizzato, un gruppo di persone, mi banneranno a profilo, probabilmente, dureremo mezza live, se va bene, perché vorrei toccare, dei, argomenti, che, sono scomodi, e, sono tutte persone, che hanno, opinioni, completamente diverse, e quindi, altro che, uomini e donne, quelli, cos'è, programmi dove, lì, un forum, un baffo, cioè, capite, cosa vi sto per portare, però, spero che non mi segnai, non pazienza, sì, noi, cercheremo, di mantenere, educazione, non parolace, un linguaggio, corretto, insomma, e, potrete anche voi, presentarci, degli argomenti, da trattare, sono persone, che hanno sempre, un'opinione, per qualsiasi cosa, e, me compresa, e, saranno tutti, argomenti, scomodi, quindi, preparate già, il popcorn al burro, perché, qua, ci si diverte, ok, questo è un altro progetto, che ho in mente, però, quello riguarda, Instagram, e, mi devo organizzare, un po', con queste persone, anche decidere, gli argomenti, come trattarle, e, trattarle, e, anche quando, fare le live, ma, tutto verrà da sé, perché, voglio portare, a termine, le mie idee, che sono troppo belle, per me, poi, magari, vi fanno schifo, però, voglio almeno provarci, ok, andiamo a Lul, allora, ho preso, un profumo, l'ho preso ieri, l'ho acquistato, in farmacia, quindi, non ha alcol, e, non ha allergeni, adesso, io con gli allergeni, mi hanno anche chiesto l'esame, come domanda, gli allergeni, quindi, sono super informatissima, comunque, non ha nome, non si vede neanche, allora, sono stata in questa, era una, in realtà, era una parafarmacia, a Rubigo, ha un sacco di profumi, ne aveva una settantina, forse anche di più, e, ogni, di questi, ogni profumino, ha, è, tipo, una, coppia, diciamo, ha una fragranza simile, a, un profumo, originale, diciamo, di una marca famosa, non mi ricordo il mio, di cos'è, comunque, io ho preso un profumo da uomo, perché, non sia da uomo, che da donna, avevo provato, quelli da donna, ma sono troppo dolci, non ce la faccio, volevo, ero partita con l'idea, di prendermeli con da donna, finalmente, ma, ehm, purtroppo, ehm, sono troppo dolci, per i miei gusti, e quindi, ho preso questo, non c'è scritto, purtroppo, comunque, ehm, ce n'era uno, che si chiamava Halloween, ma non c'era il numero, l'unico, che volevo, per il nome, vabbè, ho pagato 5 euro, quindi, quando lo finisco, posso tornare a vedere, se hanno rifornito, e provarne un altro, alla fine ho scelto il numero 66, e, non so come descrivertelo, però, non è, né, il classico profumo da uomo, perché ci sono certi profumi, che, da uomo, che ricordano troppo, tipo, i, i topo barba, non mi piacciono, buoni, però, banali, e, è un profumo particolare, su di me, ovviamente, ogni volta che, mi spruzzo un profumo, su di me cambia, e, sembra un profumo da donna, quindi, è ok, perché, è un misto, quindi, tra, un profumo da donna, e, un profumo da uomo, cioè, non è dolce, come, un profumo da donna, ma, non è neanche, troppo, maschile, cioè, diventa, nocente, su di me, ovviamente, perché, ogni pelle, poi, trasforma i profumi, e, quindi, ho preso, questo, volevo comprarmi un profumino, e, è vero, sono presa, tanto che ci penso, che lo volevo, 5 euro, le grosse spese, quelle pensate, ho anche un bel suono, farò finza, adesso, di fartelo annusare, senti che buono, buonissimo, vero, no vabbè, a me piace tantissimo, molto buono, e, sono, senza alcol, quindi, magari, durano un po' meno, dei profumi, quelli, gustosi, però, appunto, questa cosa, che, poi, metterò, a contatto, con la pelle, senza avere timore, che, provo, chi no, vabbè, allergie, e, tanta roba, insomma, tanto, poi, sempre, restando sull'economico, ho preso un'altra, camicia, che, tra l'altro, è di marca, impresa al mercatino, dell'usato, pagato, tipo, 2 euro, non so che marca sia, però, si chiama, Riff, CD, The Mass Collection, ovviamente, da uomo, porto, e, è, io, sempre, comincio azzurre, tranne oggi, è, azzurra, e, nera, e, questo colore, tipo, misto tra, un marroncino, un giallocra, non so, un arancione, carina, poi, mi piace, perché, ha, il bottoncino, sulle maniche, aspetta, ha un bottoncino, qui, sulle maniche, che, volendo, si possono, tirare su, e, e, fermare col bottoncino, quindi, diventa, tipo, maniche corte, è, un bel tessuto, leggero, giusto, per questo periodo, ha, un dettaglio, qui, fatto, tipo, di cuoio, con, la marca, della camicia, e, poi, mi piaceva, all'interno, delle maniche, che, se, vengono, tirate su, dentro, hanno, una stoffa, diversa, ma, non so, mi piacciono, sti costi, dettagli, che, non sono nota, ma, tipo, la stoffa, quadrattini, non so, se la vedi, c'è un altro azzurro, di un altro blu, e, poi, ho preso, un paio di pantaloni, sempre, 2 euro, 3 euro, non mi ricordo, comunque, ovviamente, non si vedono, perché, ho lo sfondo nero, ma, sono tutti neri, semplici, la sigaretta, però, sono della Benetton, non riesci a leggere, sul pantone, c'è scritto Benetton, vado in questi mercatini, e, mi piace, la cosa che mi piace, che, secondo me, è la, la parte migliore della cosa, c'è, il senso è quello, andare nei mercatini, comprare cose di marca, che troveresti, normalmente, a, 40, 50 euro, anche di più, e comprare 2 euro, è quello, la parte, è la parte divertente, cioè, di andare ai mercatini, dell'usato, cioè, quello, lo scopo, principale mio, cioè, guardate che mi diverte, ecco, è, riuscire a procacciare, diciamo, cose di marca, a prezzi, bassissimi, che spesso sono, rimaneste di magazzino, oppure, modelli vecchi, ecco, e, tanto io, non ho, non seguo, una moda, che dico, eh, io devo avere le cose di quest'anno, e basta, no, io mi prendo quello che mi piace, e quindi, va benissimo per me, questa tecnica, e comunque, prendo le cose di marca, perché così non è fast fashion, è una roba cinese, che inquina, roba e genere, sono comunque cose che pago poco, ma, sono prodotti validi, che, mi durano comunque, ecco, per, voglio specificare questa cosa, quindi, io ti saluto, tra poco sarà il mio compleanno, e, ma questo video, penso che uscirà, il, non so se fallo uscire lunedì, o se fallo uscire il 22 del giorno dopo del mio compleanno, ho tanto birra, tanto birra, non lo so, devo ancora decidere, vabbè, lo vedrai qua, io ti auguro, buonanotte, un relax, ciao, creatura, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti,